Fornasia aveva un piccolo problema ieri, ha avuto un piccolo problema, non lo so, dopo vediamo. Se c'è sta bene sarà preso in considerazione, se non sta bene non sarà preso in considerazione, quindi io non lo so perché devo vedere oggi, non credo che sia un problema di entità grande. Fiorillo dovrebbe rientrare, toglie la maschera, se toglie la maschera rientra, se non toglie la maschera non rientra, ma dovrebbe togliere perché i medici gli avevano detto fino a venerdì, cioè oggi.